ciao frate e ciao sore, oggi ho comprato una cosa che è proprio il top del top ragazzi non toccate alcolici e sostanze stupefacenti perché gli alcolici sono uguali alle sostanze stupefacenti che uccidono per cui alla larga mi raccomando alla larga lo dico col cuore come come un fratello lo dico a stare alla larga mi raccomando allora vi faccio vedere la storia dell'armonica mia no allora prima la faccio ristretta questa 3 euro e 50 dal cinese perché avevo visto De Gregori che suonava una fisarmonica ho detto fammi comprare pure a me ma andavate a comprare fammi provare dal cinese 3 euro e 50 questa che non suona neanche più poi dopo ho visto con quella però ci facevo delle canzoni mi venivano bene a orecchio capito perché non ho mai studiato allora che ho fatto sono nato ho comprato questa qui a colle ferro ma 20 euro insomma non sono anche da tanto bene non mi piace poi sono passato alla marca owner owner è una tra le tra i marchi più le migliori che ci stanno in commercio c'è la saidel e la owner questa è il tremolo perché fa un suono tremolante poi ho comprato questa che la marine band marine band vedete ho comprato questa che suona molto molto bene in do poi ho cominciato a comprarne altre e ho comprato le special 20 special 20 che non costano tanto costano 45 euro 40 e questa è una la questa è un'altra questa è un'altra special 20 che è un do come questa qui solo che questa non mi suonava più bene l'ho ricomprata però ho optato per la special 20 questa qui adesso ce n'è un altro le special 20 questa che è il re molto queste suonano buon benissimo le special 20 suonano benissimo però ecco adesso la chicca vi faccio vedere la chicca che ho comprato che costa questa è la owner 580 masterclass owner 580 masterclass più di questa non ci sono della owner più questo è il prezzo più più alto della io l'ho pagata 90 euro però di listino su amazon sui siti del computer owner 580 marine band la trovate a 135 euro io l'ho pagata 90 euro per un motivo specifico guardate che è è bellissima sta armonica e suona pure bene questa è un fa sono un suono squillantissimo ecco qua qui c'è scritto owner e questo è l'ultimo acquisto che ho fatto e penso sia pure l'ultimo perché l'ho comprate tutte questa è spettacolare l'ho pagata 90 euro costa 135 euro se andate a vedere su su internet però dovete trovare owner 580 masterclass perché se trovate altre cose pagate di meno cioè ci stanno delle masterclass che non so 580 costano di meno costano 95 euro 100 euro questa costava c'è di listino 135 euro vabbè comunque sia questa è l'ultima chicca che ho comprato è bella strepitosa poi pesa un botto pesa un botto vabbè raga ho fatto vedere tutta la storia mia teta armoniche ciao frate ciao sore lontani dalle sostanze raga mi raccomando ciao frate ciao sore ah se volete lasciate commenti non mettete like dislike iscrivete niente se volete lasciate un commento se vi è piaciuta se non vi è piaciuta che ne so quello che vi pare ciao frate ciao sore bacio